Si chiama Cambia Passo, il nuovo soggetto politico entrato a far parte nella coalizione di centrodestra per sostenere le elezioni di Lucas e Filippi a sindaco della città. Espressione del civismo è formato in gran parte di persone di tutte le età che non hanno un trascorso politico, ma intendono impegnarsi in prima persona per rendere, è stato detto, Fano più bella, più inclusiva, più aderente alle aspettative dei cittadini. In lista solo un politico che vanta un'esperienza in consiglio comunale è Luigi Scopelliti, che fa parte del gruppo consigliare della Lega, che invece di riproporsi nel partito in cui è stato segretario, ha preferito far parte di una lista civica. Fondatore di quest'ultima è stato Luciano Cecchini, ex presidente della Carnevalesca, mentre tra i componenti spica anche il nostro ex direttore Marco Ferri, che dopo aver creato e gestito Fano TV per tanti anni, ora continua il suo impegno civico in politica. Fano cambia passo è il nome della lista civica che oggi abbiamo fondato insieme ai soci fondatori, che saranno anche i futuri candidati. Devo dire che c'è un grande entusiasmo, nomi nuovi, conosciuti, ma anche persone che hanno deciso di aderire a questo progetto, che sono comunque parte attiva della nostra città. Abbiamo cercato di rappresentare tutti i quartieri, lo faremo anche nelle prossime settimane. Noi vogliamo un cambio di passo, vogliamo rinnovare la nostra città, vogliamo risollevare la città di Fano. Per farlo abbiamo bisogno di un incubatore vero di civismo. A noi non interessano che cosa votano le persone a livello nazionale, se centro-sinistra o piuttosto che Movimento 5 Stelle. Stiamo registrando un grandissimo affetto e sono sicuro che questo progetto, che si chiama Fano Cambia Passo, Luca Serfilippi Sindaco, sarà il progetto in cui queste persone si riconosceranno. Perché i problemi della città di Fano molto spesso non hanno colore politico. Alcune scelte, devo dire la verità, naturalmente hanno colore, nel senso che noi la pensiamo molto diversamente, penso alla variante Gimarra, rispetto a questa amministrazione, ma servono serietà e competenza. Questo gruppo di soci fondatori e futuri candidati sono sicuro che rappresenta sia la serietà che la competenza senza colori politici. Tra le sorprese che ha manifestato la lista Cambia Passo c'è anche quella di Marco Ferri. Se mi penso politico sono un pesce fuor d'acqua, se invece mi penso come un cittadino che negli ultimi 18 anni, o imprenditore che negli ultimi 18 anni ha cercato di servire la città attraverso lo strumento della televisione, servire il cittadino e cercare nel limite del possibile di aiutarlo nella vita di tutti i giorni, beh no, lì allora penso di essere nel posto giusto. Non ho ambizioni politiche, non mi sento un politico, non voglio diventare politico, voglio non disperdere quel patrimonio che ho costruito personalmente negli ultimi 17-18 anni. Quindi continuerò, se il cittadino mi darà la fiducia, voglio continuare a servirlo, ad aiutarlo e a, laddove possibile, anche nelle piccole cose, cercare di elevare lo standard qualitativo di questa città. Luciano Cecchini, il patron del Carnevale, ha sempre detto di no alla politica, perché questa volta hai detto di sì? Ho detto di sì perché in Leuca Semprilimpi l'ho sempre creduto come una persona trasparente, come una persona validissima a guidare la nostra città e visto e considerato che si presenta come sindaco di Fano non potevo che dirgli di sì, perché gli voglio bene. A parte il Carnevale, che credo che ti sia rimasto nel cuore, che cosa ti impegni in modo particolare per Fano? Tu sai che ho sempre vissuto nell'associazionismo e nel Carnevale 35 anni e passa, nel Circolo Acli, nell'organizzazione Vallato e basta perché ce n'è una sfila infinita. Attualmente sono con Roshan insieme dove appunto ci diamo da fare sempre per il quartiere, sempre per la città. Grazie. 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 Grazie.